Un altro intervento dei carabinieri nel quartiere Zen 2 porta ad un arresto e due denunce in stato di libertà. Coadiuvati da personale dell'IACP della provincia di Palermo e da tecnici Enel, i militari hanno accertato che i GEA G. Entrambi palermitani avevano illecitamente allacciato l'impianto elettrico delle loro attività alla rete pubblica. I due sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.